vogliamo fare un piccolo ripasso del libro di Colossesi, tutto il libro, no scherzo, non ripassiamo tutto il libro, però vogliamo ricordarci le cose essenziali. Prima di tutto ci ricordiamo qual è lo scopo del libro di Colossesi. È stato scritto per ricordarci che chi è al centro della nostra vita, si vede che c'è un po' di fuso orario stamattina, chi è al centro della nostra vita? Cristo, ok, non era una domanda difficile, era più difficile dell'altra e l'avete risposta. La settimana scorsa cosa abbiamo visto? Abbiamo guardato come Cristo deve essere al centro di che cosa? Della nostra famiglia, abbiamo visto quattro ritratti essenziali della famiglia che onora Cristo, abbiamo visto che la moglie che onora Cristo si sottomette al proprio marito, abbiamo visto che il marito che onora Cristo ama la propria moglie, abbiamo visto che i figli che onorano Cristo ubbidiscono ai propri genitori, infine abbiamo visto che il padre, o se volete anche i genitori che onorano Cristo, non provocano i propri figli. Vi ricordate come Paolo ha introdotto questi ritratti con il versetto 17 del capitolo 3 dove dice qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio, Padre per mezzo di Lui. Vedremo un altro pezzo di questo principio così importante stamattina, ma prima vi voglio ricordare un po' di contesto, onestamente non ho dedicato tantissimo tempo al contesto di Colossesi, perché ci sono talmente tanti insegnamenti, però stamattina forse sarà utile ricordare un paio di cosette importanti. Prima di tutto, da dove ha scritto Paolo questa lettera ai Colossesi? Da Roma agli arresti domiciliari, ok? O dalla prigione. E sapete che non è l'unica lettera che Lui ha scritto durante questo periodo e in particolare ci sono delle epistole chiamate le epistole della prigionia, ma in particolare Lui ha scritto tre lettere insieme, proprio nello stesso momento. La prima è quella agli Efesini, ecco perché quando noi leggiamo Efesini sembra quasi leggere Colossesi, a volte ci sbagliamo. Questo si trova in Efesini o in Colossesi, ma c'è una terza lettera, che è una lettera molto breve, per chi vuole memorizzare un libro della Bibbia, ve lo consiglio, è il libro di Filemone, è una lettera personale, la lettera più breve del Nuovo Testamento, in cui lui scrive a questo padrone, che è anche il padre del pastore della chiesa di Colosse, una persona che si era convertita a Efeso tramite il ministero di Paolo. Devo anche tra parentesi dire che c'è un'altra lettera, è una lettera andata persa, per volontà di Dio, che è la lettera ai Laodicesi, infatti questo lo vediamo, lo vedremo prossimamente, come lui dice, voi leggete questa lettera passata a quelli di Laodicea e quella di Laodicea passata a voi, quindi c'erano tante cose che Paolo voleva insegnare, sapete, le pergamene erano anche molto costose, però noi oggi affrontiamo la lettera ai Colossesi. Quando noi arriviamo a questo punto nel testo, come vedete nello schermo, noi vedremo i versetti da 23 al capitolo 4, versetto 1, lui continua nella testimonianza di quella che erano i ruoli, come mostrare Cristo nella famiglia. Noi quando pensiamo, beh, abbiamo i genitori, abbiamo i figli, cosa rimane? Beh, nelle famiglie greco-rumane c'era un'altra parte importante della casa, che erano gli schiavi. Quindi è molto importante non soltanto il rapporto tra marito e moglie, tra genitori e figli, ma anche tra schiavi e padroni. Pensate che questa lettera stessa ai Colossesi è stata portata da uno schiavo, lo schiavo Onesimo, di cui parla il libro di Filemone. Questo schiavo che era fuggito, però si era convertito tramite Paolo, ed è venuto, ha portato questa lettera ai Colossesi, accompagnato anche da Tichico, che era un membro di questa chiesa, anche per non rischiare la morte, uno schiavo fuggitivo meritava la morte. Lui ha portato questa lettera e proprio oggi vediamo delle cose che Paolo dice agli schiavi e ai padroni. Quindi vogliamo leggere insieme, capitolo 3, versetti da 22 a 24. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Alcuni di noi, soprattutto mia moglie, ama la linguistica, quindi per chi si annoia con la linguistica potete tappare le orecchie per qualche momento. Vi voglio dire alcune cose che ci possono essere utili nel capire la bellezza di questo testo. Prima di tutto, la parola servo, indovinate qual è la parola tradotta più letteralmente? Schiavo. Ok, questa è la parola schiavo, dulos. E poi c'è una cosa molto interessante, che la stessa parola che in questo breve testo viene tradotto più volte diversamente per Signore, Signori o padrone, padroni, è la stessa parola, curios. Ok? È l'unica parola. Perché vi dico questo? Perché la Bibbia è un libro bellissimo e Paolo qui fa un bellissimo gioco di parole per farci capire come in fondo tutti noi credenti abbiamo un padrone, è vero? Abbiamo un curios. Abbiamo un padrone celeste, Gesù Cristo e abbiamo alcuni hanno padroni anche terreni perché sono schiavi. Quindi ho voluto rileggervelo un pochino più letterale. Sentite come l'avrebbero sentito le prime persone che lo ascoltavano. Schiavi, versetto 22. Ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere gli uomini, ma con semplicità di cuore temendo il padrone. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il padrone, sapete chi è il padrone. E non per gli uomini, sapendo che dal padrone riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il padrone. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la ritribuzione del torto che avrà fatto senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Quando lo leggiamo così vedi come ripete la stessa cosa diverse volte e penso che sia gli schiavi che i padroni hanno capito quanto fosse importante il loro rapporto con Gesù Cristo, il padrone. Pensate quanto sia importante per tutti noi ricordarci che noi non siamo altro che schiavi di Dio. A volte ci piace levigare questa bella parola schiavi, mettiamo la parola servi e secondo me vale anche la pena tornare un po' indietro al versetto 11 dove Paolo ha appena affermato una cosa molto importante per il testo di stamattina dove dice qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero ma Cristo è tutto in tutti. Potete immaginare questa chiesa di Colosse. Con un versetto così possiamo immaginare che forse c'erano anche schiavi che erano guide spirituali dei propri padroni. Pensate come sarebbe stato strano, una persona che dalla cultura veniva considerata come una proprietà, come un oggetto, nella chiesa poteva essere anche l'anziano del proprio padrone. Potete immaginarvi tutti i problemi che possono nascere da queste tensioni nei rapporti. Quindi le istruzioni che Dio ci dà riguardo tra schiavi e padroni è importante anche oggi. Forse direi ma come noi non abbiamo schiavi? Perché dobbiamo studiare questo testo? Vedremo come è veramente simile, anzi quasi identico al concetto che noi abbiamo oggi del rapporto tra dipendenti e datore di lavoro. Così impareremo stamattina delle lezioni importanti su come vivere il nostro lavoro per Cristo. Il titolo di stamattina, per riassumere tutto quello che vedremo, è questo. Vivere Cristo nel lavoro. Tre modi in cui Cristo trasforma il tuo lavoro. Preghiamo. Signore grazie per la tua parola, grazie che non c'è una sola lettera come ci ha insegnato il nostro padrone Gesù Cristo che non sia importante per noi. Non c'è un solo accento che non fosse stato scritto lì come una cosa importante per noi, per la tua gloria, per la nostra vita, per la nostra crescita. E così vogliamo adorarti stamattina e la cosa peggiore che potrebbe succedere in noi stamattina è che noi ascoltiamo un bel messaggio e torniamo a casa, che è un bel messaggio e non cambiamo niente nelle nostre vite. Signore, tu non ci dai queste cose soltanto per capirle, ma per trasformarci. Quindi guidaci, Signore, nella tua parola che possiamo veramente imparare per essere trasformati. In nome di Gesù. Amen. Quando io dico la parola schiavo, cosa vi viene in mente? Catene, esatto, catene. Spero che non ti viene in mente il tuo lavoro. Può succedere, è vero? Forse ti chiedi che c'entra il lavoro che io faccio onestamente e liberamente con la schiavitù. Forse per questo motivo, anche per come ha risposto benissimo Franco, dobbiamo tornare un attimo indietro per capire cos'è la schiavitù romana. Perché se no abbiamo queste immagini degli Stati Uniti, prima della famosa guerra di secessione, abbiamo le catene, abbiamo questi schiavi, forse abbiamo, per chi fosse un po' più vecchio, il telefilm Radici, oppure il film Amistad, anche quello sta diventando vecchio. Abbiamo queste immagini, ma non era proprio così. Erano sempre schiavi ai tempi romani, ma l'immagine è molto, molto diversa. Qualcuno di voi forse avrà letto un bellissimo libro di MacArthur, intitolato al proprio Schiavo, dove lui ci spiega questo. In base all'addestramento ricevuto e anche alle esigenze dei loro padroni, gli schiavi potevano assolvere a diverse funzioni, sia dentro che fuori casa. Le loro occupazioni potevano essere molto varie, da insegnanti a cuochi a commercianti a medici. Osservando i passanti sulla strada, fate attenzione, sarebbe stato difficile distinguere tra schiavi e non schiavi. Non c'era nessuna differenza sostanziale nell'abbuiamento, né erano diverse differenze significative nelle loro responsabilità. Uno schiavo poteva fare qualsiasi tipo di lavoro, fatto anche da una persona libera. Nell'impero romano, dice ancora, del primo secolo la schiavitù era una struttura sociale pervasiva. Gli schiavi erano dappertutto. All'inizio del primo secolo, quando è stata scritta questa lettera, lo sapete quanti schiavi c'erano nell'impero romano? Un quinto della popolazione. Quindi, 12 milioni di schiavi. Una volta ho letto su un altro commentario che hanno deciso, noi dobbiamo capire chi sono questi schiavi. Allora li hanno fatti tutti vestire, mi pare, di giallo. Ed è durato un giorno questo esperimento, perché hanno visto quanti erano. hanno detto, no, forse non vale la pena che dopo capiscono quanti sono e si possono fare qualche rivoluzione. Quindi, se ci pensiamo, anche in una chiesa di questa grandezza, un quarto, un quinto di noi, in una chiesa tipica, sarebbe stata schiavi. Minimo, perché potete immaginare che molti schiavi venivano a fede. Sappiamo cosa dice anche Gesù sulla benedizione che c'è per i poveri, che sono più aperti alla parola. Quindi, quando noi pensiamo a schiavi, pensiamo a lavoratori. Questo messaggio è per i lavoratori. Quasi tutti noi siamo lavoratori, in un modo o nell'altro. Se c'è una frase che tutti noi a diritto abbiamo imparato, o a educazione civica, dalla Costituzione, è la prima frase, dove dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi è molto importante per noi italiani il lavoro. Era importante anche ai tempi della Bibbia. Pensate a cosa dice Paolo ai testalonicesi. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Questo lo dico anche ai miei figli, però ancora non hanno capito tanto. Di fatti, dice, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affacendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. La Bibbia esalta il lavoro. Sia ben chiaro. Io penso che la Bibbia anche incoraggia il nostro lavoro. Allora ti devo chiedere questo stamattina, e da qui veramente prometto che entriamo nel testo. Per chi lavori? Non quale ditta, ma per chi lavori? Dio ci dà un primo comandamento che abbiamo già letto stamattina. Indirizzandosi ai schiavi che noi consideriamo i dipendenti di oggi. Quindi il punto numero uno è questo. Se siete lavoratori dipendenti, lavorate per Gesù Cristo. Questa è una bella notizia. Noi che siamo dipendenti di qualcuno lavoriamo per Gesù Cristo. Riguardiamo il versetto 22, la prima parte, dove dice, servi oppure schiavi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne. Prima di tutto, ubbidite in ogni cosa, anche ai padroni terreni. Ecco, come vedete, usando la stessa parola sia per Gesù che per il padrone terreno, ha dovuto specificare padroni secondo la carne. Quindi, sì, volete servire Cristo, benissimo, allora dovete servire anche i vostri padroni terreni. Dice, è vero, avete dei padroni umani, ma non lavorate per loro, lavorate sotto di loro, ma non lavorate per loro. Pensiamo allora al nostro vero padrone, quello che è sopra anche il nostro padrone nel lavoro. Noi abbiamo un padrone, Gesù, che ha dato la sua vita per noi. Difficile battere un padrone che vuole dare e ha dato la sua vita per noi. Anche il mio capo terreno, cioè mio padre, io lavoro per lui, potremmo dire, è il mio pastore, come lavoro anche per Dan, loro lavorano per me, noi tutti lavoriamo per voi. Ma anche se tu non hai un capo in gamba come ce l'ho io, tu hai un capo celeste che è il capo perfetto. Se lui è il capo celeste, lui ha anche dunque il diritto di ordinare. Ti ha comprato, lui è il tuo re, ti ha adottato nella famiglia del padre. Se tu gli hai dato la tua vita, tu stesso hai accettato con tutto il cuore di chiamarlo padrone. Pensate ai Romani 10, uno dei versetti più fraintesi della Bibbia, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato. E come Gesù è il tuo padrone, anche lui ti chiederà un resoconto. Pensate a cosa dice il secondo Corinthians 5,10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la ritribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Lo vedremo ancora più in là questo concetto. Qualcuno potrebbe dire mi sta bene che Gesù è il mio padrone e mi dice che devo ubbidire il mio padrone. E se mi chiedi di imbrogliare? Se mi chiedi di fare qualcosa di illegale? Devo farlo? Allora ti richiedo chi è il tuo vero padrone? Gesù. Potremmo dire che il padrone che tu hai sulla terra è il tuo manager e Gesù è il vero padrone. Quindi qualsiasi cosa che tu fai la devi fare per lui e se non la puoi fare per lui non la devi fare. Andiamo avanti con il testo qua. Abbiamo diverse cose da affrontare. dice non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini ma con semplicità di cuore temendo il padrone o il Signore. Quindi non soltanto ubbidite ogni cosa ai vostri padroni terreni ma servite anche quando non siete visti. Qui è proprio una bellissima parola che dice servizio d'occhio che tu servi solo per essere visto. Diciamoci la verità è facile lavorare per fare bella figura ma ti devo chiedere questo come lavori quando nessuno ti guarda soprattutto se sei un dipendente schiavo o non schiavo è più facile lavorare se ne ricaviamo un beneficio vero? Quando ci vedono ah tu sei bravo allora ti pago di più ah tu sei bravo ti do la pacca sulla spalla ma vi rendete conto che anche quando noi lavoriamo e forse non avete la fortuna che ho io di fare il pastore di fare il missionario avete un lavoro secolare eppure quando tu lavori tu lavori per Dio tu lavori per Gesù Cristo quindi i benefici del lavoro che fai sono duratori durano per sempre perché tu stai servendo Dio quante volte anche io me lo devo ricordare che quando sto davanti mi piace quando mi dite ah fai un bel lavoro però non è per quello che lo faccio lo faccio per Dio e nei momenti dove sono da solo dove tu sei da solo forse ti lasciano da solo nell'azienda dove potresti benissimo giocare a carte sul computer o sul smartphone invece lavori duro non lavorate per piacere agli uomini sapete perché non dobbiamo lavorare per piacere agli uomini io ho pensato di due motivi sicuramente qualcuno di voi ha molti più anni di lavoro di me ma se lavori per piacere agli uomini non li farai mai contenti per ogni tutto vero? non sa che contenti erano mai se lo fai per loro ti assicuro che prima o poi li fai arrabbiare secondo se lavori per gli uomini prima o poi sarai messo a confronto con il tuo vero capo il tuo vero capo ti dice una cosa il tuo capo qua giù ti dice un'altra tu devi lavorare per il tuo vero capo poi dice un'altra frase qua che mi piace veramente tanto dice lavorate con semplicità di cuore qualcuno ha tradotto anche con sincerità di cuore con piena onestà purtroppo nel mondo non si premia l'onestà è vero? si fa pagare più tasse perché si sa che molti non dicono la verità sulle tasse si si punisce gli onesti perché ci sono i disonesti è vero? ma noi abbiamo una chiamata superiore da parte di Dio di di lavorare con la sincerità del nostro cuore come adori il Signore stamattina come avete tutti adorato con veramente una bellezza di cuore così tu adori il Signore quando tu fai un lavoro ben fatto per il Signore lo sapete come lo so? perché nella riforma non soltanto hanno riformato tante cose soprattutto nell'ambito della salvezza riportandoci alle scritture ma i riformatori hanno molto hanno puntato molto su questo sentite queste bellissime parole di Lutero nel periodo in cui verso la Pasqua esaltiamo queste persone queste figure religiose Lutero ha detto questo le opere dei monaci e dei preti per quanto siano santi e difficili che possano essere non sono diverse gli occhi di Dio dall'opera del contadino nel campo o dalla donna che fa le sue faccende di casa tutte le opere perché dice questo? perché tutte le opere sono misurate davanti a Dio soltanto per fede la parola di Dio esalta il tuo lavoro se tu sei un operaio forse anche pagato poco se tu sei una casalinga un casalingo qualsiasi cosa tu fai è per grazia anche il lavoro poi dice un'altra cosa qua in questa breve frase lavorate nel timore del vostro vero padrone qualcuno di noi ha dei padroni più o meno seri più o meno che fanno paura ma noi dobbiamo sempre temere il nostro vero padrone io anni fa voi pensate che ho sempre fatto il pastore non è vero? ho fatto l'operaio ho fatto la distribuzione dei giornali ho fatto un po' di tutto ho fatto il segretario e uno dei lavori che ho apprezzato di più era lavorare a McDonald's e sapete che c'era una differenza tra quando c'era il manager a guardarti a lavorare e quando arrivava il capo è vero? noi tutti lavoriamo adesso come se avessimo un manager ma un giorno tornerà il capo noi dobbiamo lavorare non per il manager ma per il capo il nostro capo è Gesù Cristo andiamo avanti versetto 23 qualunque cosa facciate quanto mi piace questa frase fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini che vuol dire di buon animo? fate tutto con il giusto atteggiamento avete mai pensato che non c'è nessun beneficio? a lavorare con il broncio? a lavorare lamentandosi? cioè cosa ne ricavate? forse avete anche ragione forse mi hanno trattato male forse non mi hanno pagato forse sono tante le situazioni ma che beneficio riceviamo dal girare nel lavoro con un atteggiamento sbagliato? nessuno ieri io e mia moglie eravamo a un autogrill tornando da Milano e ci siamo fermati a prendere un cappuccino e c'era una donna che lavorava con un broncio ma vi dico di quelli insanabili ok? ho provato di tutto per farla sorridere per farla ridere lì serviva i cappuccini io pensavo a una persona che serve il cappuccino dovrebbe essere felice è vero? tu fai felici tutti tutti vengono un cappuccino per favore tutti escono beh dovrebbero uscire col sorriso ma non lei allora a un certo punto io non ce la facevo più perché vedevo questa persona giovane poi gli ho detto ma tutto bene? sei girata? il capo mi ha risposto eh questo sono quelli che lavorano nel sabato che vuol dire? io lavoro il sabato io lavoro tutti i sabati il sabato è il mio giorno preferito questa persona ha bisogno di Gesù Cristo perché se tu lavori per Gesù Cristo e ti chiamano a lavorare anche il sabato o la notte tu puoi lavorare con il sorriso anzi se leggi questo devi lavorare con il sorriso di buon animo servite di buon animo con tutto il cuore date il 100% a quello che fate servite il vostro vero padrone non lo dirò abbastanza stamattina non per servire gli uomini non sa con tante danno mai dobbiamo avere la soddisfazione ragazzi anche voi a scuola studiate per Gesù Cristo è dura ci sono dei professori che fanno tutto per rendere la vostra vita impossibile ma Gesù Cristo vuole che tu studi per lui è una cosa bellissima un'opportunità che ognuno di noi ha pensate a una persona e ci sono persone felicissime che sono paralizzate che non possono nemmeno lavorare non possono fare niente ma hanno la gioia del Signore eppure noi abbiamo tutto questo abbiamo la ricchezza di poter servire con le nostre braccia con le nostre menti e andiamo a lavoro o a casa con il broncio forse potrei chiederti che giovamento potrei avere forse mi chiederai che giovamento possa avere nel lavorare per Gesù se non l'hai capito ancora guardiamo il versetto 24 che è una promessa di Dio sapendo che dal Signore dal nostro vero padrone da il Signore riceverete per ricompensa l'eredità e poi c'è una frase qua che è la frase chiave servite Cristo il Signore se c'è una cosa che dovete ricordarvi una cosa facile se dovete metterla al lavoro dovete metterla a scuola nel vostro diario se dovete metterlo sullo zaino dovete metterlo a casa da qualche parte dovete metterlo in macchina servite Cristo il Signore non Cristo il Salvatore Cristo il Signore siccome Lui è il Signore è il tuo Salvatore se Lui non è il Signore non è il tuo Salvatore ma Dio ti chiama a servire Cristo il Signore ricevete la ricompensa dice qua del vostro padrone eterno un padrone che ha tutta la ricompensa che nemmeno possiamo immaginare quanto è grande la ricompensa ha messo da parte un'eredità per te in cielo un'eredità che non si consuma non si brucia non si arugginisce non lo perdi se vai in bancarotta a volte noi lavoriamo pensando questo è un po' sprecato l'ho pensato anch'io a volte predico un messaggio e poi sento che il giorno e magari qualcuno ah grazie che bel messaggio poi scopri che il giorno dopo hanno fatto esattamente l'opposto di quello che tu hai predicato e dico la verità mi viene in mente il lunedì che ci sto a fare è tutto fiato sprecato può succedere ma non lo è mai c'è la promessa qua questo messaggio serve a me quanto a voi sapete qui vale la pena ricordarci che Paolo ha già parlato di questo di questa eredità solo in Colossesi sentite ho già 4 versetti Colossesi 1.5 dice a causa della speranza che vi riservate nei cieli Colossesi 1.12 dice ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi Colossesi 1.27 Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri cioè Cristo in voi la speranza della gloria Colossesi 3.1 se dunque siete stati risuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio abbiamo un'eredità non importa che tipo di capo hai su questa terra il tuo vero capo ti ricompenserà generosamente e forse ci dimentichiamo troppo spesso che questa vita è temporanea è molto temporanea forse oggi il tuo ultimo giorno o forse non lavori oggi ma forse questa settimana sei andata in pensione forse tu pensi ah c'ho tutta una vita davanti per lavorare nessuno ha queste garanzie ma abbiamo la garanzia di un'eredità di una pensione eterna che soddisfazione sapere che non è non è sprecato nulla di quello che tu fai al lavoro o a scuola è vero ah questo non mi servirà nella vita no ma se tu studi per Dio se tu lavori se tu curi la tua famiglia per Dio nulla è sprecato servite Cristo il Signore ne vale la pena servite il vostro vero padrone il padrone di Dio il padrone di Dio è il padrone di tutto e di tutti tra l'altro la parola servire qui la parola quando dice servite è la stessa parola di schiavi potremmo dire schiavizzatevi per Cristo il Signore siete i suoi schiavi è quello che sta dicendo questo era solo il primo punto ne abbiamo ancora due ma sono più brevi il secondo punto che è una continuazione di questo discorso però è un po' ambiguo nel linguaggio il versetto 25 perché in effetti si lega benissimo sia al versetto 24 che al versetto 1 del capitolo 4 leggiamo cosa dice infatti oppure tradotto anche perciò che mi piace di più perciò che agisce ingiustamente riceverà la ritribuzione del torto che avrà fatto senza che vi siano favoritismi punto numero 1 e 2 abbiamo già visto che il punto numero 1 voglio essere sicuro che ve lo dico precisamente punto numero 1 era era questo che noi se siamo dipendenti dobbiamo lavorare per Gesù Cristo adesso il punto numero 2 è operai ed attori o dipendenti e capi ricordate che Gesù Cristo non fa favoritismi ok uno schiavo credente poteva forse pensare che avrebbe avuto favoritismi dal capo vero poteva poteva approfittarsene del suo capo perché erano tutti i due credenti sapete che Gesù non fa favoritismi né per i dipendenti né per i datori di lavoro sentite Esolo 23 dove dice di non fare favoritismi neppure per i poveri dice non andare dietro la folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia a Dio non interessa chi ha più bisogno o chi ha meno bisogno a Dio interessa la giustizia così pure non favorire il povero nel suo processo potremmo tradurlo così Gesù non è né CGL CISL o SWIL o COMF commercio o chi più ne ha più ne metta Gesù non ha parti quindi non dobbiamo approfittarci di questa cosa vi dico una buona notizia e una brutta notizia la buona notizia è che abbiamo un padrone giusto la brutta notizia se pensi di poterti approfittare del padrone giusto è che abbiamo un padrone giusto la buona notizia è che abbiamo un padrone giusto lui vede quando il capo non ti paga lui vede quando non ti è dato il dovuto lui vede se sei un padrone quando i lavoratori cercano di rubare il tuo tempo e il tuo denaro la brutta notizia se ti vuoi approfittare è che abbiamo un padrone giusto e quindi lui vede quando tu rubi le cose dal lavoro lui vede quando tu timbri il cartellino e come lo timbri lui vede quando non paghi i dipendenti e quando non mantieni le promesse allora ti devo chiedere questo lavori come se Gesù fosse il tuo capo? Lavori come se Gesù fosse accanto a te? Pensi che puoi rubare dal capo solo perché lui ruba da te? Ricordati lui non è il tuo vero capo il tuo vero capo è Gesù a volte gli schiavi potevano approfittare dei padroni come anche i padroni credenti potevano approfittare dei propri schiavi tristemente forse anche voi conoscete delle persone che si reputano credenti e che intenzialmente cercano di assumere credenti perché sanno che possono approfittarsene succede ora Paolo fa un appello più diretto ai padroni ai datori di lavoro versetto breve perché parla meno ai padroni? non lo so versetto 1 dice questo padroni date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo io penso che per un padrone romano questo deve essere stato scioccante come? io non sono schiavo di nessuno sì tu sei schiavo di Cristo date quello che è giusto dice qua il lavoro non è una beneficenza ok se volete fare un regalo al vostro dipendente lo potete fare ma non è una beneficenza ma il lavoro va pagato onestamente non soltanto date quello che è giusto ma date quello che vorreste ricevere dal vostro padrone dico sempre ai miei figli e penso che tutti noi pensiamo facciamo agli altri quello che vorremmo che fosse fatto a noi se tu sei un padrone oggi se tu hai dipendenti oppure sei un libero professionista e devi decidere se pagare i tuoi fornitori o non pagarli o approfittare di loro ricordati come tu vuoi essere trattato dal tuo padrone tutti noi abbiamo un padrone anche i padroni hanno padroni e anche i padroni dovranno rendere conto i padroni non sono superiori e se uno è padrone pensa di farla franca si sbaglia noi come credenti abbiamo uno standard è uno standard molto più alto di quello che noi vediamo in giro uno standard che ci renderà fraintesi anche se siamo padroni è proprio triste che purtroppo c'è una reputazione nel mondo che a volte i credenti sono quelli che imbrogliano di più mi ricordo anni fa quando delle persone credenti hanno imbrogliato mio padre e mio padre ha parlato con la loro guida spirituale e gli hanno risposto gli affari sono affari forse non hanno letto Colossesi 3 perché gli affari sono affari e tu hai un padrone se io scopro se io scopro che qualcuno di voi sta imbrogliando io ho una responsabilità davanti a Dio di parlartene e se tu vedi che io sto imbrogliando tu hai una responsabilità di parlare con me perché gli affari non sono affari gli affari sono di Cristo se noi valutiamo il messaggio del Vangelo noi vediamo che un credente che imbroglia è allo stesso livello di un apostata in una persona che non crede bestemmia il nome di Gesù Cristo guardate cosa dice in ebrei 10 versetti 28 a 31 chi trasgredisce la legge di Mosè viene messa a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia noi conosciamo infatti colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo è terribile cadere nelle mani del Dio vivente quindi se dobbiamo riassumere tutto quello che abbiamo imparato stamattina cosa diremmo? servite Cristo il Signore come stai servendo Cristo il Signore? o meglio come dirà Cristo il tuo Signore che lo stai servendo nel posto di lavoro nel mondo a volte si pensa al lavoro come una benedizione ti voglio lasciare con incoraggiamento il lavoro non è una maledizione la fatica nel lavoro è una punizione il sudore può essere una punizione ma non abbiamo la chiamata di fare il meno lavoro possibile non abbiamo il sogno noi come credenti di avere quel lavoro dove non devi fare niente perché nessuno ti dice niente non abbiamo questo diritto né questa chiamata la stanchezza può essere una maledizione ma il lavoro è un dono il lavoro fa parte di essere creati all'immagine di Dio vi rendete conto Dio lavora e sapete non soltanto che Dio lavora ma siccome Dio ha creato l'uomo ai suoi immagini qual è la prima cosa che ha fatto l'uomo verso Dio dopo che l'ha creato non ha creato la donna sentite due versetti per dimostrarvi che la prima cosa che Dio ha fatto per l'uomo è che gli ha dato un lavoro prima della caduta Genesi 1.26 dice Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano dominio sui pesci del mare sui uccelli del cielo sul bestiame su tutta la terra e su tutti i rettili che striscono sulla terra questo è il dominio è un lavoro ma c'è un versetto ancora più preciso Genesi 2.15 dove lui entra proprio a parlare della creazione dell'uomo dice questo Dio il Signore prese dunque l'uomo ricordate ancora non c'era Eva e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse il tuo lavoro è una benedizione di Dio è parte del fatto che Dio ti ha creato in sua immagine la buona notizia per chi dice io lavoro anche troppo è che Dio ha creato poi la donna affinché l'uomo lavorasse meno a volte noi uomini possiamo ossessionarci sul lavoro ancora sto cercando di preparare un messaggio in meno ore per la gioia della mia famiglia pregate che possa diventare una realtà allora voglio concludere con questa domanda che rapporto hai con il lavoro e soprattutto per chi lavori Dio non ti ha creato solo per lavorare ma ti ha creato anche per lavorare e lavorare per lui e quando una persona non credente ti chiederà perché lavori così come gli risponderai perché servo Cristo il Signore signore grazie che non ci sono aspetti della nostra vita che non sono spirituali dalla cura del nostro corpo alla cura delle nostre famiglie al nostro lavoro ogni cosa è glorificata da Cristo ed è riscattata da Cristo grazie per la morte di Cristo sulla croce per acquistarci come un popolo in ogni nostra parte ti voglio pregare che in questa settimana tu possa rendere il nostro lavoro più gioioso perché serviamo te perché serviamo Cristo serviamo il nostro Salvatore questo ci dovrebbe dare la più grande gioia di tutte e per questo noi ti celebriamo Signore e vogliamo che sia fatta la tua volontà nelle nostre vite affinché più persone possano conoscerti amarti rispettarti adorarti nel nome di Gesù Amen